Musica Fiumi di droga in città e provincia, 16 condanne, si è chiusa in tribunale l'operazione White Valley con cui i carabinieri stroncarono un grande giro di spaccio tra Piacenza e la Val Trebbia. Settimo furto all'autolavaggio i ladri, filmati il video dell'ennesimo colpo ai danni della struttura di Roveletto di Cadeo. Il comandante vergante verso Monza, il dirigente della Polizia Municipale di Piacenza, in carica da pochi mesi, ha vinto un concorso in Brianza e potrebbe presto trasferirsi, oggi massicci controlli di tutte le forze dell'ordine in città. L'area migliora ma una centralina va in tilt. Secondo i dati di Arpae, il vento di ieri ha spazzato via lo smog in città, ma mancano i dati della zona più inquinata tra Stradone Farnese e Via Giordani. Addio a Mario Montermini-Bolla, si è spento a 76 anni l'avvocato, storico presidente della FIGC di Piacenza e Stella d'Oro del CONI. Alla prossima! Alla prossima!